Allora, siccome c'è stato un gruppo tecnici per l'attore del piano di protezione civile e stiamo vedendo che si sta, diciamo, in precedenza, per avere un ulteriore finanziamento perché la regione aveva messo a disposizione altri fondi, eccetera, sempre che l'attualmente il piano di protezione civile è completamente un'altra cosa, si è un trattato per questa situazione. Non è stato dato ancora niente perché ci abbiamo dovuto richiedere la documentazione per fare riguarda il rivoluzione alla Seda, anzi la Seda, infatti, e ancora non arrivano, ancora non ci dà tutto, tutta la zona, che vorrebbe aver chiamato il caso, la ditta, quindi si sta procedendo, quindi i soldi non sono stati spesi, per fin l'anno non erano chiesti tutti quanti, anche dal punto quadro di tecnici, non erano varie di 3.000 euro, ci siamo con un soldo inferiore di 3.000 euro, con la cosa di avere caratterizzazione, la regione di 3.000 euro. Sì, sono, e se è possibile...